Ciao a tutti ragazzi io sono Suriv e benvenuti in questo nuovo video di aggiornamento dell'isola degli iscritti e del display degli iscritti Il display è fermo a 11.019 iscritti ma adesso siamo già a 11.366 iscritti Quindi adesso andiamo subito a aggiornare altri tipo 350 iscritti o qualcosa del genere anche in queste due settimane qua E vi ringrazio tantissimo come sempre stiamo andando alla grande con il canale e sono più che soddisfatto Un'altra informazione che vi do anche in questo video se vi interessa ho un account Instagram adesso Lo troverete in descrizione da questo video in poi e per chi è interessato a seguirmi può seguirmi anche lì E un'altra cosa sto utilizzando una tastiera diversa non so se si sente adesso troppo nel microfono Però sto utilizzando una tastiera meccanica della Klim che mi è arrivata ieri E per adesso in questi giorni la proverò in queste settimane qua e poi ci farò un video recensione Quindi a parte queste due novità che vi devo dire grazie a tutti per tutti gli iscritti nuovi che vi state iscrivendo E tutti i vecchi che continuate a sostenere il canale Andiamo a nominare tutti quelli che hanno compilato il modulo che si trova in descrizione Per essere salutati con il libro degli iscritti qua nell'isola Allora eccolo qua il libro dovremmo arrivare a pagina 16 eccolo qua Perfetto il primo di oggi è Luigi Petrillo Shield Boss Nitin Jassal Maurizio Boy Manuel Basarini Il Bocia Tia Gamer YouTube Rainer Patata al sugo 92 Ok Jacopo Mestre Luke1403 Alpha Gaming Alecry04 YouTube Antonio Lattuneddu Caterina Nencioni Devimeo Blades206 Matteo FI Raimo04 Supernik 220502 Ok Made in Italy Stefano Lazzar Mickey Creeper Mattia02 Revy05 Slimer391 Dark Wolf Ok Nell'ultima pagina abbiamo Fede DJ Galbia02 Mickey Watch99 Gorm05 E Fabio Manstruo Quindi benvenuti anche a tutti voi nella l'isola degli iscritti Grazie per essere iscritti al mio canale E anche questo video di aggiornamento direi che può finire qui Ricordo se volete essere raggiunti nella l'isola degli iscritti Compete il modulo che si trova in descrizione Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video Io come sempre sono su Rive Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti